calcio di rigore deve piacere nel cuore per pararlo uno ce l'ha dentro non è allenabile secondo me sei pronto davide molto bravo a fare il rigore bravo 1-0 chi tocca 2-0 tocca alessandro adesso vale potrebbe parlare perché un paro di gol secondo me bravo ale vediamo luca lo sport della tigre sei pronto luca se pari questi vinci un premio ehi no applausi per luca